E a questo punto parliamo da Fiat. Mi pare che a Marchionne, stupendo fanfarazzo, di tutti gli operai non ce ne fanno un lazzo. A chi ci interessa, in chi riesce la panza, pigliando contributi a ogni circostanza. Speriamo che a più presto ti finisci questa minnetta, a così se vuoi adattare ti attacchi a ciancianetta. Sta Fiat di termine è figlia maritare, con tante pretendenti pronte per l'artare. Prima le tedesche, i russi, i americani, e ora sto cimino un sembolo all'indiane. Vi giuro che a me pare, a zi da vinti miglia, soltanto che ha la buona, ma non se la piglia. Un vannacate più, con chiacchiere e parole, a termine io c'avaglio, chiedo che ci vuole. Le tempi ora fincero, finite di babbiare. Il Carnevale Termitano ti aspetta! Concerti gratuiti, sfilate e tanta allegria! Dal 9 al 16 febbraio a Termini Merese www.ilcarnevale-termitano.it